Quanto è sporca la tua mente? Lo scopriremo in questo video Come sempre io e Daniele stiamo cercando qualcosa di simpatico e curioso in rete Siamo capitati in questo sito Che diciamo che parte già malissimo Nel caso iniziamo il test Allora, 69, che cosa ti sta venendo in mente ora? Sta surriscaldando Io direi proviamolo Ok vai andiamo avanti Quale mano preferisci usare? Ecco qua, allora Guarda queste immagini Qual è il tuo primo pensiero? Sia onesto Ehi, è una lampada ma sembra qualcosa di diverso Ehi, molto sexy Ok, allora vai Metti a voti Oh, fuck Sì, guarda un attimo qui, attenzione E poi ho capito che in realtà sono le braccia di quella che vanno così dietro Ma non era chiarissimo subito Anche perché non si capisce bene che sta facendo Eh, infatti, vabbè Nel caso Nel caso Votiamo LOL e la sua mano Anzi, anzi Io ho voto Sembra sporca LOL Sì, sono d'accordo Vai Sono d'accordo Ok Poi Oh, fuck Che cos'è sto coso? Guarda questa immagine Cosa pensi ora? Sia onesto Sia onesto Questo è davvero troppo sporco Quindi io ho avuto questo Vai Io ho avuto questo È davvero troppo sporco Io dico LOL Le cosa sta facendo Ok, vai Pure io Ma pure io LOL Le cosa sta facendo Oh mio Dio Guarda questa Questa immagine Qual è il tuo primo pensiero? Eh Diciamo che il mio primo pensiero Aspetta Lasciatemi fare un bello zoom Oh my god Guarda questa No, questo Sì Sì Ma io voto questo Oh, what the fuck Guarda Guarda la prossima Guarda la prossima Ah, no Diciamo che I minion Bambini Sono malefici Allora questa Allora questa La prossima È un libro Però Il tuo ragionamento Un paio di tette Questa immagine C'è capitata E cosa ho pensato io subito? Wow Che tette Mi sono tette Invece è l'unica cosa Che mi ha fatto capire Che era un libro Nel fatto che Te ne mandano le pagine Capito Un po' aperte Ma quello può essere Il ricamo del vestito No Eh Non lo so Va beh Ok quindi tu Ti Ok io libro Ok Oh fuck Allora Anche questo Allora Diciamo Raccontiamo questo piccolo aneddoto Nel balcone Fuori da mari Fuori da mari Teniamo questo Cactus Che è proprio così In realtà una terza palla Ed è un po' più Sì Grosso Allora A me è proprio un pene chiodato Questa è la mia pianta preferita Te la regalo La vuoi? No Come direte Maramajonchi Per me no Per me no No Vai andiamo alla prossima Uè uno se fal Questa ti viene in mente Allora Come lo spieghi Allora vediamo le disposte Vediamo le disposte I miei ripensati sono stati Mi piace quella di sinistra E poi Beh Due ragazze Ragazze sexy Ragazze sexy Ok Allora io Io voto LOL Voto LOL Ecco Questa Questa è da copertina Sì Se non metti questa nella copertina Non fai visual Visual Diciamo che vorrei votare Voto Vorrei votare LOL Però già l'ho votato troppe volte Quindi direi Bella fotografia Un po' voto Bella fotografia È stata Photoshop No io Come prima Molto Sedere sexy Sì Sedere sexy Ho preso un culo Allora Guarda questa immagine Cosa ti viene in mente Allora Se lo devo tradurre Al momento Dobbiamo Tradurre Prova a tradurre Più o meno Traducendolo al momento Dovrebbe essere tipo Consiglio Piano familiare E questo è scritto Usa l'entrata Riar Che non so cosa vuol dire Però nel caso dico Che fine No Dico Ci sono vie migliori Sì O che cos'è O ci sono vie migliori Ci sono vie migliori Ci sono vie migliori 80% Mente sporca Ed accaldata Leggiamo perché Ci dice così Hai una mente così sporca Ed accaldata Che ti piace Ciò che vedi in un modo Tutto tuo Sì perché io guardo Il controller Guardo così Vedo il controller Della playstation E dico Sì questo è un pisello Esatto Appunto Ma perché C'era così brava Vabbè Tutto ciò Che vedi in modo tuo Di solito Tu sei il miglior A violare le buzzerette Sporche Che fanno ridere Gli altri a morte Sì sì Certo sì Ci inchiniamo davanti A tv Inchinatevi con Il tag Del hype adesso Sei semplicemente sexy Ok Spero che questo video Vi sia piaciuto Come sempre Lasciate like Commentate Condividete il video Iscrivetevi al canale Al prossimo video Ciao Grazie a tutti